In Mamadonna da sempre tu segui la realizzazione insieme ai ragazzi di questi carricelli, quest'anno ce n'è uno in particolare in memoria di Giovanni Guarino. Sì perché lui era uno di noi, di questi periodi stava qui, durante Covid ci chiamava a dire non vedo l'ora di fare il carro, mi dispiace che adesso invece di stare qui presente stia lì. Voi avete voluto rendergli omaggio? Sicuramente, sicuramente. Quanto tempo i ragazzi impiegano per realizzare questi carri? Ricordiamo la tradizione dove vuole che vengano realizzati, costruiti? Sì vengono realizzati di solito sotto i portoni, la prima tradizione, se abbiamo qualche locale che ci prestano lo facciamo lì. I materiali che utilizzate? I materiali ci sono parecchie cose che ricicliamo già, però comunque sono base legno, polistrutturato, carta, carta oro. C'è tanta passione? Tanta, tanta, iniziano già ad agosto, quest'anno le hanno voluti fare un po' più grandi perché diciamo è l'oro decennale di alcuni ragazzi, l'altro carro l'hanno fatto un po' più grande. Quest'anno c'è stata anche la collaborazione dell'Associazione delle Mamme dei Disabili, una maestra che non ha voluto far perdere la tradizione ai bambini dell'asilo perché essendo piccoli e il Covid ovviamente ci ha fermato per due anni, non la ricordavano perché sono piccoli e grazie a una maestra proprio della Giovanni Mazza che ha voluto far realizzare anche un carretto a loro dell'asilo. Tornano i carretti per le strade di Tore del Greco dietro al carro trionfale dell'immacolata, l'emozione che si prova quest'anno? L'emozione che si prova quest'anno è un'emozione indescrivibile perché con l'iniziare del Covid ci siamo fermati ben sì ma due anni e noi questa tradizione l'abbiamo sempre portata nel nostro cuore. Abbiamo iniziato vent'anni fa, eravamo un gruppo di bambini, eravamo semplici ragazzini che giravano per raccimolare qualcosina per fare questi carretti. Noi lavoravamo sotto i portoni, lavoravamo sempre uniti perché alla fine è una cosa che ci lega, l'amore per la nostra madre celeste. Qual è il tema scelto per i carretti di quest'anno? Il tema è unico e solo, è quello della Basilica, però ognuno di noi realizza il suo proprio carretto. Questo carro alle nostre spalle in particolare è dedicato ai marittimi? Sì, questo carro è dedicato ai marittimi di Torre del Greco e noi siamo corallini, ne siamo fieri di essere corallini. Sul primo lato del castelletto è raffigurata la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, sul secondo lato è rappresentata l'immagine della Basilica e di San Vincenzo Romano.